Qualche volta dietro ad una tosse che tende a non passare c'è purtroppo una causa anche allergica. Vediamo in quali casi e come affrontarla. Direi che tra le moltissime cause di tosse, specie di quelle tosse insistenti, fastidiose, quelle che non passano mai e che sono magari presenti già da settimane da mesi, ce n'è una che molto spesso non viene sufficientemente considerata. Mi riferisco in questo caso alla tosse a base allergica. Cosa vuol dire tosse allergica? Vuol dire una tosse che rappresenta il risultato dell'attivazione dei recettori di tosse presenti in un qualunque punto dell'apparato respiratorio ad opera di un comune meccanismo allergico, cioè la presenza in un qualsiasi soggetto atopico, ricordo come l'atopia sia la naturale tendenza a poter andare incontro a malattie allergiche di qualsiasi natura su base genetica, cioè se non sono atopico, se non nasco geneticamente atopico non potrò mai diventare allergico. appunto dicevo la presenza di una particolare sensibilizzazione a certi allergeni, cosa sono gli allergeni? Acari, pollini, buffe, alimenti, ad esempio peli e forfori animali, profumi, sostanze volate di varie, farmaci eccetera. E questa sensibilizzazione agli allergeni provoca poi una vera e propria malattia allergica che si esprime a livello delle diverse parti, dei diversi organi dell'apparato respiratorio e ogni individuo ha una diversa probabilità di presentare i sintomi allergici respiratori, prevalentemente a uno piuttosto che a un altro organo facente parte del sistema respiratorio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia allergia, in senso generale, interessa prevalentemente il laringe, che è l'organo con il quale parlo e che contiene le corde vocali, mentre il mio vicino di casa ha una particolare sensibilità allergica che si esprime invece con uno spasmo dei bronchi, tutti e due saremo atopici, cioè potenzialmente in grado tutti e due di diventare allergici. Tutti e due avremo un'allergia respiratoria, ma io avrò una laringita allergica con naturalmente certi determinati sintomi e tutta una serie di necessità da risolvere, non solo di tipo farmacologico, mentre il mio vicino di casa lui invece avrà un'asma bronchiale con la necessità naturalmente di usare farmaci ben diversi da quelli che uso io, pur essendo comune sia nell'uno che nell'altro caso la base allergica. In alcuni casi il mio vicino di casa dovrà neppure scomodare un'asma per giustificare la tosse persistente, ma basterà che sia contenti di uno stato pre-asmatico, cioè di uno stato anticipatore di una successiva vera e propria malattia asmatica che si preannuncia proprio in molti casi con una tosse fastidiosissima e con una tosse secca e insistente che persiste e tende a persistere nel tempo. Noi specialisti la chiamiamo tosse come equivalente asmatico, cioè non ho ancora il broncospasmo in vero e proprio che è un po' la caratteristica dell'asma, ma rispondo all'allergia che mi irrita i bronchi inizialmente solo con una tosse, una tosse che appunto in questo caso non fa altro che anticiparmi l'asma vera e proprio che è dietro l'angolo, che è dietro le quinte, che potrebbe poi manifestarsi successivamente. Perché succede questo? Ma perché per fortuna o per disgrazia siamo un pochino, non siamo tutti uguali, anzi siamo tutti diversi. La cioccolata è la stessa ma in uno fa gonfiare la lingua e la bocca, nell'altro provoca una gastrite che è l'infiammazione dello stomaco, un brusore di stomaco, nell'altro invece mi fa venire il mal di testa, in un altro ancora scatena i sintomi di una colite con il classico mal di pancia e la necessità di correre in bagno. Non lo fa in tutti, a cioccolata è comune a tutti, è comune a tutti questi diversi casi, ma gli organi dell'apparato digerente interessati sono diversi da un individuo all'altro con sintomi diversi e manifestazioni cliniche diversi. Stessa causa ma diversi organi colpiti, con diversi sintomi, diversi da paziente a paziente. Sta al medico e ancora più allo specialista gastroenterologo in questo caso specifico capire di cosa si tratti. Apparato respiratorio, il virus è sempre lo stesso, ma in uno mi provoca una faringite, in un altro una laringite o una laringotracheite, laringe più trachea infiammata da causa virale, il tubo grosso qui davanti dove passa l'aria che va ai bronchi e ai polmoni. In un altro causa invece una bronchite o ancora una bronchiolite che è l'infiammazione dei bronchi più fini, dei bronchi più piccoli, che nel bimbo più piccolo nel neonato può anche essere una causa di morte. Una polmonite o una pleurite, la pleura è un po' la membrana sottile che riveste i polmoni, è la parte interna del torace, il virus è lo stesso, ma i vari organi dell'apparato respiratorio che colpisce e che fanno da bersaglio finale possono essere diversi da un soggetto all'altro, con sintomi anche in questo caso molto diversi tra di loro, con prognosi diverse e cure diverse e rischi diversi e lo pneumologo, lo specialista della malattia respiratoria che nel caso specifico si occupa di queste diverse manifestazioni respiratorie da parte dello stesso virus uguale per tutti e che deve capire cosa sta succedendo proponendo le diverse cure. Ma di nuovo apparato respiratorio, torniamo agli allergeni, allergeni come detto prima, gli stessi acari e le stesse forfore e gli stessi peli animali in pazienti diversi provocano l'interessamento di nuovo come nel caso dei virus visti prima di organi diversi lungo le vie aeree, quindi naturalmente di nuovo con manifestazioni respiratorie diversi, sintomi diversi, cure diverse, la base comune e l'allergia, ma chi deve capire che quella tosse è il sintomo allergico sempre uguale per tutti che compare in pazienti diversi per l'irritazione una volta del naso, la laringità allergica, una volta della ringe, la laringità allergica, una volta della trachea e dei bronchi con o senza la presenza di uno stato asmatico, eccetera, è lo specialista che si occupa dei problemi respiratori, lo preumologo che dopo aver compreso che quella tosse è il segnale di una malattia, di uno dei diversi organi che compongono l'apparato respiratorio, interviene, bene, cura il paziente e risolve il problema, una stessa tosse quindi uguale per tutti, una comune base allergica ma problemi diversi, perché gli organi interessati da un comune problema fisiopatologico sono diversi da un soggetto all'altro, perché che ci piaccia o no siamo tutti diversi e gli specialisti che curano i problemi respiratori questo lo sanno molto bene.